Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo, siamo quindi nel pieno della stagione invernale, le vacanze natalizie sono quindi alle porte e noi oggi andiamo a scoprire un territorio meraviglioso della nostra provincia, ovvero la Val Comelico. Lo facciamo grazie al Presidente del Consorzio Turistico Val Comelico, Ivano Tomasella, che saluto, benvenuto nei nostri studi e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Consorzio Turistico Val Comelico, iniziamo un po' dal capire come siete strutturati, chi sono gli associati al Consorzio Turistico e cosa fate? Allora, noi come direttivo siamo ormai, questo è il nostro terzo mandato, quindi al nono anno in carica. I nostri uffici sono strutturati in questo modo, cioè praticamente abbiamo un ufficio a Padola e un ufficio a Santo Stefano. Da due anni a questa parte siamo anche diventati ufficio IAT, in quanto abbiamo fatto una convenzione con l'Unione Montana, che quindi rappresenta i cinque comuni della Val Comelico e quindi operiamo sia a livello di Consorzio Turistico vero e proprio e sia come informazione turistica per quanto riguarda gli uffici e la gestione degli uffici IAT. Il personale nostro fisso, diciamo, è di due persone, uno a Santo Stefano di Cadore ed uno a Padola e ovviamente nei periodi di maggior flusso turistico assumiamo personale per i periodi stagionali ben definiti. Certo, certo. In inverno la Val Comelico e sci alpino, sci di fondo, attività escursionistiche, su che cosa puntate per la stagione invernale? Allora, beh, innanzitutto ovviamente lo sci perché è l'elemento un po' trainante del turismo. Chiaramente noi abbiamo anche un grande anello di fondo di oltre i 30 chilometri e quindi è molto importante. Lo stesso anello, anche se in modo un po' più ridotto, è adanta di Cadore e quindi anche là, diciamo così, c'è un po' di attività per quanto riguarda il fondo. A Padola ci sono gli impianti e come insomma ben sapete adesso è in previsione il collegamento che tutti attendono con grande impazienza e speriamo che questo sia, come dire, un elemento di maggior traino per la nostra zona. Ha detto tutti attendono, quindi anche voi ha spiegato questo nuovo collegamento? Assolutamente sì e noi dobbiamo essere i primi a farci trovare pronti a questa sfida perché secondo me sarà una sfida importante perché sicuramente porterà un afflusso turistico ancora più intenso di quello che c'è adesso perché chiaramente adesso, come dire, c'è in funzione un bus navetta che da Padola porta a Sesto e quindi porta un po' di gente, sposta la gente in questa posizione. Dopo con il collegamento chiaramente la gente che viene e che parte da Padola troverà anche posto per alloggiare e quindi secondo me dovremo, come dire, farci trovare pronti a dare anche strutture e servizi secondo me più ricchi di quello che stiamo fornendo adesso. Mi sembra di capire quindi che non sarebbero sufficienti nell'ottica di questo collegamento i posti letto e le attività connesse. Cioè serve uno sviluppo a aumentare posti letto, ricettività, nuovi alberghi, B&B in questa ottica per farsi trovare preparati, come diceva lei? Secondo me assolutamente sì, secondo me assolutamente sì perché comunque, come dicevo prima, il turista viene e si stabilizza nel luogo quindi non deve spostarsi, prendere auto oppure, come dicevamo prima, un bus navetta seppur gratuito ma è comunque un qualcosa che può anche creare un po' di disagio. Mentre nel momento in cui sarà in funzione il collegamento che uno con gli sci ai piedi fa oltre 100 chilometri di piste e avere un posto fisso nella località è sicuramente una cosa importante. Quindi secondo me sia noi come consorzio per quello che può essere la nostra competenza, sia le amministrazioni comunali dovranno comunque studiare qualcosa per far sì che ci sia questa crescita, questo sviluppo insomma. Ecco il Comelico è un territorio paesaggisticamente molto molto bello che attrae credo un turismo di nicchia, che ama la quiete, che ama l'aria pura, il non eccessivo traffico. Non temete che questo nuovo collegamento possa un po' tra virgolette stravolgere quello che attualmente è questa connotazione? Se l'ha inquadrata in maniera corretta, mi dirà lei? No, secondo me no, non può intaccare questo perché comunque la connotazione fondamentale di questa valle è appunto la quiete, le passeggiate, i percorsi pedonali, i sentieri eccetera. Quindi viene vista più come, come posso dire, un relax, un posto dove uno viene, trova la quiete, ma trova anche, come posso dire, un'accoglienza familiare, trova comunque dei servizi, trova comunque delle attività con cui trascorrere la giornata. Quindi, diciamo così, il turista che arriva ha delle attività che possono svariare a 360 gradi su tutto quello che può essere l'arco della giornata. Quindi dai più, come dire, preparati, che vogliono fare roccia, percorsi difficili, ferrate, a quelli che vogliono fare la semplice passeggiata, da chi vuole andare per boschi a trovare i funghi. Quindi, voglio dire, c'è una grande varietà di cose per cui si può fare. Quindi non penso che questo possa snaturare quello che è, come dire, l'ordinamento principale che ha questa valle. Ecco, per questo ordinamento principale, voi come consorzio turistico, come promuovete questa attività? E questo, appunto, tipo particolare di caratteristiche che lei ci ha elencato, ovvero la pace, la tranquillità, voglio dire, fate promozione per conto vostro, vi agganciate ad altri consorsi, magari alla DMO? Allora, beh, sicuramente noi siamo all'interno della DMO e quindi con loro collaboriamo strettamente. Per quanto riguarda invece il nostro singolo, il nostro, come dire, piccolo orticello, ce lo gestiamo tra di noi. Quindi, devo dire, abbiamo un ottimo rapporto sia con le amministrazioni comunali, sia con tutte le associazioni del territorio, quindi c'è un'ampia collaborazione tra tutte le forze, che è una cosa che io ho sempre auspicato dal primo giorno in cui mi sono insediato come presidente, anche se mi hanno visto un po' così un esterno, ma adesso, insomma, sono considerato uno del posto, uno di loro. E quindi questa, come dire, questa unione di tutte le forze fa sì che tutto quello che noi programmiamo, che noi, come dire, proponiamo, abbia comunque un riverbero importante, insomma, ecco. Certo, ecco, per la stagione invernale l'attività principale che promuovete, se ce n'è una in particolare sulla quale vi andate a concentrare, voglio dire, una serie di eventi, oppure di caratteristiche magari peculiari per questa stagione invernale, oppure una promozione a 360 gradi? Pur essendo a 360 gradi, comunque abbiamo programmato alcuni eventi significativi, significativi, diciamo così, perché a parte quello che saranno i mercatini di Natale, l'arrivo di Babbo Natale per i bambini, le accensioni dell'albero che le abbiamo già fatte l'8 dicembre, e quindi ci sono comunque varie attività, tra cui, ecco, ci sono alcune ciaspolate, che quindi saranno delle uscite sia giornaliere che notturne. Una cosa importante che mi preme dirlo è che, visto che adesso si riscontrano tanti infortuni in chi va a fare escursioni o anche con gli sci, faremo una serata il 29 con le guide alpine, dove verrà appunto, come dire, illustrata un po' come sono i comportamenti, come uno si deve comportare quando va nella montagna, perché sappiamo bene che, insomma, la montagna è bella, ma bisogna affrontarla nel modo giusto, insomma, e quindi per evitare pericoli, eccetera. E in quella sede presenteremo due video, quello estivo e quello invernale, e una serie di cartine tematiche che abbiamo fatto, insomma, in questo periodo. Quindi ritengo, e fin d'ora invito tutti ad essere presenti, che ritengo sia un argomento molto interessante. Assolutamente. Senta, ha citato le guide alpine, un elemento di particolare interesse. Ce ne sono in Valcomelico di guida alpine per accompagnare i turisti con la preparazione adeguata delle guide alpine, perché la guida alpina è formata, ha studiato, è una professione vera e propria. Ce ne sono in Valcomelico, perché la figura della guida alpina è molto, voglio dire, settoriale, nel senso che non ce ne sono moltissime nella nostra provincia. Sì, di fatti fa parte anche degli eventi che noi comunque organizziamo, perché in base anche ai gradi di difficoltà delle varie escursioni, le guide alpine ci seguono, organizzano con noi quelli che sono i percorsi, quindi sì, assolutamente. Sento una curiosità, avete vicina la Valpusteria con Sesto, ci sono turisti che vengono da quei luoghi che evidentemente sono maggiormente sviluppati a livello turistico, i numeri della Valpusteria sono importanti, che arrivano in Valcomelico proprio perché apprezzano la bellezza del paesaggio, la tranquillità. Sì, ci sono, come probabilmente ci sono turisti che sono venuti da noi e poi vanno dall'altra parte, secondo me in questi anni i flussi turistici sono abbastanza vari, quindi c'è uno spostamento abbastanza costante di gente. Chiaramente dopo noi abbiamo i nostri fedelissimi che vengono ormai da una vita, si può dire, però c'è sia un flusso sia in uscita che in entrata. Quindi ritengo, e tra l'altro noi con la Posteria e con le altre realtà, diciamo, confinanti, abbiamo comunque ottimi rapporti, abbiamo scambi di collaborazioni, quindi c'è un rapporto costante e continuo con tutti, insomma. Senti, una curiosità, il turismo in Valcomelico è prevalentemente un turismo mordi e fuggi o del fine settimana oppure estanziale una settimana e oltre? Allora, secondo me io differenzierei quello che è il turismo invernale da quello estivo. Quello estivo è sicuramente un po' a un lungo periodo perché va dalla settimana minima ai 15 giorni, c'è chi fa anche il mese, mentre chiaramente nel periodo invernale o fanno i weekend o fanno la settimana. Certo, e allora abbiamo purtroppo esaurito il tempo a nostra disposizione, la ringraziamo molto, auguriamo veramente un buon lavoro a lei e a tutto il consorzio turistico Valcomelico anche in vista delle festività natalizie e clui della stagione invernale. Grazie Ivano Tomasella. Grazie a voi e buone feste a tutti. E a voi tutti, gentili tre spettatori e tre spettatrici, grazie per la gentile attenzione e l'appuntamento rinnovato alla prossima settimana per un altro numero di Dolomiti Turismo. Dromi di Turismo.